Se va a Sanremo rosa chemica scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler. Fedez, ospite della Costa Smeralda al Festival di Sanremo 2023, si è esibito con un freestyle scritto da lui, sulla produzione di Salmo. Un brano il cui testo integrale non è stato approvato dalla RAI e di cui Fedez si è preso totalmente la responsabilità. All'interno ci sono chiari riferimenti all'attualità, dalla cattura di Matteo Messina Denaro alle accuse ricevute per la sindrome del nano. Ma la parte più controversa arriva nella seconda strofa del freestyle, quando Fedez canta Se va a Sanremo rosa chemica scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler, riferendosi al vice ministro Galeazzo Bignami, con una foto mostrata al pubblico durante l'esibizione. La chiusura dedicata a Gianluca Vialli, che gli è stato vicino durante la convalescenza del tumore, il calciatore è scomparso lo scorso 6 gennaio dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute per un tumore al pancreas. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!